Potrebbe essere stato un fulmine la causa dell'incendio che si è verificato intorno alle 23 a Chiusi della Verna. Un incendio che ha colpito il cuore della Pineta. Immediati soccorsi che a causa della zona impervia e particolarmente pendente non sono riusciti ad arrivare direttamente all'incendio con i mezzi propri e hanno dovuto così allestire una linea d'acqua di 400 metri. Le fiamme si sono propagate per 4000 metri e alle 6 del mattino del 9 di agosto erano per fortuna già circoscritte. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con 3 mezzi e 7 persone, l'Unione dei Comuni della Valtiberina con 2 mezzi e 5 persone e i Vigili del Fuoco di Bibiena con 2 mezzi e 6 unità. Dalle prime ore del mattino gli operai forestali sono al lavoro per mettere in sicurezza l'intera area che sarà successivamente bonificata. Le cause dell'incendio saranno stabilite con esatta certezza da parte dei carabinieri forestali. Un ringraziamento a tutti i soccorritori che nonostante le evidenti difficoltà di intervento in piena notte sono intervenuti tempestivamente e hanno svolto un lavoro di squadra eccellente impedendo alle fiamme di divagare. Questa la dichiarazione del Vice Presidente dell'Unione con delega alla forestazione e sindaco anche di Chiusi e della Verna, Giampaolo Tellini.